Sono contenta di aver affrontato ed essere riuscita a concludere questo master in quanto grazie all'esperienza e all'aver conosciuto molti professionisti del settore sono riuscita a riempire molte lacune che avevo nel settore del digital marketing e del settore food and wine. È un'esperienza che consiglio perché ti arricchisce sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano.